quarto trimestre. Le autorità di Hong Kong hanno arrestato sei componenti del sito web indipendente di notizie Stand News con l'accusa di pubblicazione sediziosa. La sede del giornale e le abitazioni degli arrestati sono state perquisite. Il sito ha chiuso, il direttore ad interim Patrick Lam si è dimesso e tutti i dipendenti sono stati licenziati. Adesso la morte di Nicolo Ciatti. Autore dei sovrapposti